Si avvia la conclusione il programma di recupero e valorizzazione complessivo dell'area monumentale di San Giovanni in Venere che l'amministrazione comunale di Fossaceasia progetta da tempo in collaborazione con i soggetti competenti quali Prefettura di Chieti, Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio d'Abruzzo, i padri passionisti. Un primo intervento e indirittura d'arrivo grazie ad un finanziamento di 500 mila euro sulla riprogrammazione di fondi FSC 2007-2013 assegnati con deliberazione Cipe. Il progetto ha previsto la pavimentazione del percorso pedonale che accede al belvedere che si affaccia sulla costa dei Trabocchi, l'illuminazione complessiva mediante impianto integrato nel contesto naturale. Inoltre i lavori hanno recuperato la fonte di Venere col percorso di collegamento che dal parcheggio sottostante permetterà ai turisti di raggiungere ed ammirare la fonte per poi arrivare alla splendida abbazia. Nel progetto sono previsti anche interventi di sistemazione della pavimentazione esistente nell'area monumentale nei tratti maggiormente deteriorati, opere importanti per un monumento nazionale che è simbolo della costa dei Trabocchi.